Come nelle previsioni, il lunedì termine ultimo per le vincitrici dei rispettivi gironi di Serie D ha visto tutte le compagini tranne una a depositare la domanda di iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro. Tutte tranne il Gozzano, ma questa non è una sorpresa perché la formazione piemontese aveva già dichiarato di voler rinunciare al terzo torneo nazionale. Le altre ci sono, Seregno, Trento, Fiorenzuola, Montevarchi, Campobasso, Monterosi e Taranto, aspettando la CR Messina, che solamente nel weekend ha avuto la matematica certezza di aver vinto il girone I contro i cugini dell'FC Messina, arrivati in seconda posizione. La CR avrà ancora qualche altro giorno di tempo, scadenza il prossimo 13 luglio, ma intanto sono 58 le squadre che saranno regolarmente ai nastri di partenza della prossima Serie C. A meno che non cambi qualcosa nella situazione legata alla casertana, difficile perché i termini sono scaduti, si renderanno perciò necessari due ripescaggi che dovrebbero arrivare una dalle retrocesse e una dai play-off di Serie D. Nel consiglio direttivo di oggi la Lega Pro analizzerà le domande pervenute e la loro conformità per poi dare parere favolevole o meno entro un paio di giorni. Nel consiglio direttivo di oggi la Lega Pro analizzerà le domande pervenute e la loro conformità per poi dare parere favorevole o meno entro un paio di giorni. In caso di stop di qualche domanda, spazio ai ricorsi entro il 13 luglio con pronuncia finale il 15 nel corso del Consiglio federale che metterà la parola a fine ad un'estate, per fortuna, non così torrida come la pandemia da Covid poteva lasciar supporre. Per quanto riguarda i ripescaggi la graduatoria stilata rebbe l'aglianese al primo posto, ma in casa Toscana, complice anche e soprattutto il problema stadio, il barometro, sembra andare verso la rinuncia. Il picerno è out, causa impossibilità di inoltrare domanda. Poi c'è da capire cosa accadrà nei play-off del Gironei, che ha chiuso per ultimo la stagione regolare e che oggi vedrà la prima semifinale. Solo quando gli organici saranno definitivi ci sarà poi la composizione dei Gironi con il Pescara, che rischia il raggruppamento meridionale, mentre il Teramo sembrerebbe quasi certo della posizione centrale. È chiaro che il forfè della Casertana potrebbe far scartare un posto al sud, ma è altrettanto evidente che inserire un'altra candidata alla vittoria, come la formazione biancazzurra di Gaetano Auteri, in un Girone già complesso, renderebbe disequilibrati i rapporti tra vari raggruppamenti. Intanto, sia a Pescara che a Teramo c'è fermento sui difensori. Auteri potrebbe presto abbracciare Ianes, mentre il Diavolo, che un allenatore ancora non ce l'ha, potrebbe salutare Piacentini. Affare sull'asse Pisa con il Potenza, che poi avrebbe strada libera per l'arrivo del centrale, in prestito proprio dai Nerazzurri, che l'acquisterebbero a titolo definitivo. Grazie.